Si leva anche da Catania il grido tacciano le armi negoziato subito per sollecitare la fine della guerra in Ucraina con l'avvio delle trattative. Sabato prossimo, 22 ottobre, si terrà nel capologo etneo il corteo verso una conferenza internazionale di pace, Europe for Peace. L'appuntamento è per le 17 in Vietnea davanti all'ingresso della Villa Bellini, a promuovere l'iniziativa una moltitudine di associazioni, sindacati, chiese e partiti. Nel documento che espira il corteo si legge, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia si avvia a diventare un conflitto di lunga durata, con drammatiche conseguenze per la vita e il futuro delle popolazioni ucraine, ma anche per l'accesso al cibo e all'energia di centinaia di milioni di persone per il clima del pianeta, per l'economia europea e globale. La guerra va fermata subito e va cercata una soluzione negoziale, ma non si vedono sinora iniziative politiche né da parte degli stati né da parte delle istituzioni internazionali e multilaterali, che dimostrino la volontà di cercare una soluzione politica alla crisi. Al nostro microfono Giuseppe D'Aquila della Segreteria Provinciale della CGL di Catania, fra i partecipanti attivi del corteo. Nell'ambito delle iniziative nazionali che si stanno ripetendo e che si stanno costruendo su tutto il territorio nazionale di questo movimento, che si occupa a livello internazionale del movimento della pace, anche noi sabato cercheremo di dare il nostro contributo. La CGL insieme all'Arce ha voluto dare semplicemente, ha voluto testimoniare uno sforzo organizzativo, ma ci sono centinaia di associazioni che hanno aderito all'iniziativa, che vogliamo essere proprio un collettivo, che vogliono gridare alla pace, vogliono rivendicare questo concetto di pace che sembrava un concetto stabile, fisso nelle nostre menti, ma che invece ci è ripiombato addosso senza che nessuno poteva aspettarselo. Io credo che noi siamo nelle condizioni di dare il nostro contributo al movimento pacifista, per dire che alle armi sia un negoziato subito e imminente per tanti motivi che conosciamo.